eccoci raggi di sole oggi parliamo del lavoro cardiovascolare perché funzioni e quindi sia efficace il lavoro cardiovascolare mi deve avere un'adeguata intensità la si calcola prendendo il valore 220 e da 220 sottraete la vostra età il risultato sarà la vostra frequenza cardiaca massima se il cuore batte tra il 60 e l'85 per cento di quella frequenza cardiaca massima il lavoro cardiovascolare rispetterà un'adeguata intensità deve anche avere una durata adeguata quindi non inferiore a 20 minuti ma neanche cedere sopra l'ora i 60 minuti va bene come si esegue o sfruttate un tapirulan o sfruttate una cyclette o dei passi dell'aerobica che io vi propongo nel caso non abbiate gli attrezzi che prima ho elencato ciò che vi propongo è un'aerobica a basso impatto e vi faccio appunto vedere dei passi che vi possono essere utili il primo è il grapevine quindi voi da qui prendete spostate il peso io sono il vostro specchio ok e incrociate passo incrocio tallone passo incrocio tallone va bene ora così vedete anche bene l'incrocio vedete e tallone questo un grapevine a questo avveniamo anche il v-step apro apro chiudo chiudo apro apro chiudo chiudo apro apro chiudo chiudo molto carini anche il lounge o questi sono laterali e poi li si possono fare anche in avanti per creare una struttura di lezione continuativa vi suggerisco di iniziare coi grapevine e farne ad esempio 8 esempio se seguite la base musicale preferisco poi inserite i v-step e ne fate magari altri 8 ok e ricominciate quindi ricomincio coi grapevine 8 più v-step altri 8 da qua inserisco il lounge e dopo averne fatti a sufficienza almeno 8 ricomincio tutto da capo quindi grapevine v-step e lounge laterali una volta finito ciò vado avanti con il lounge frontale ad esempio e indovinate un po' che cosa fate ricominciate tutto da capo ultimi ripassi che possono stimolarvi un po' un po' più complessi è anche il box 1 2 e prendo avanti incrocio e torno il mambo 1 2 3 4 1 2 3 4 grazie ragazze buona giornata al prossimo episodio vedremo l'alto impatto 8 9 10